partete al comando panther cat presto scavalcata all'esterno da spagone che passa di slancio a condurre davanti a panther cat quindi tiki taka con all'esterno last gift segue alex flash quindi ancora friburgo con in coda straduc cavalli lungo la curva con spagone che sta proseguendo al comando tallonato da panther cat in terza posizione last gift a precedere tiki taka più indietro alex fresh friburgo e straduc siamo in retta di arrivo con spagone all'osteccato al suo esterno avanza panther cat con all'esterno last gift dietro ai primi cerca il barco tiki taka poi friburgo e gli altri ricala spagone in leggera difficoltà con panther cat che passa nei confronti di last gift a centro pista poi più indietro tiki taka siamo a 200 dal palo panther cat all'interno si sta allungando e nel tratto conclusivo panther cat si impone nettamente davanti al last gift poi spagone e tiki taka vediamo le immagini che la regia ci ripropone del numero 5 panther cat gialluca bitolini al bersaglio in questa prima corsa di napoli al posto d'onore last gift con il numero 4 al terzo il 6 di spagone quindi 5 4 6 il probabile ed ufficioso arrivo della prima di napoli